18.000 Gigi e Ross e 19.000 i Pampers, beh, con questo avete raccolto delle somme proficue per i vostri progetti Media Friends e siete contenti? Siamo contentissimi! Sì, però io avrei una notizia e una chicca, siccome non è giusto che per un pelo, per un progetto ci siano 1.000 euro di più da una parte e 1.000 di meno dall'altra, noi togliamo tutto il compenso a Dino Brescia, cioè tutte le 1.000 euro che ha preso per le quattro puntate e andranno a compensare, quindi alla fine la cifra sarà uguale sia per un progetto che per l'altro. Dino l'ha fatto volentieri, non ne sapeva niente ma l'ha fatto volentieri. Grazie Diego, grazie Dino. Per tutta la puntata ha ti fatto per loro. Ricordiamo, ricordiamo che Gigi e Ross si sono battuti benissimo in questa battaglia per il loro progetto a regola d'arte. Aiuteremo questi ragazzi di Napoli sia con lo sport che con la musica, rugby e musica. E invece i Pampers? Noi con i ragazzi di Milano per Insieme con la musica abbiamo fatto di tutto, abbiamo schierato, cioè in passato avete visto cosa ha fatto per questi ragazzi, ricordo. Ci teneva veramente tanto. E possiamo dire che per noi Capisquadra è stato un onore collaborare con dei comici così bravi.